E la vostra sofferenza mi sarà d'aiuto. Oh, uccellini, la gabbia vi ha trovati. Non sopporto chi fa battute sul piede. La gioia del massacro, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Sono a secco. Sì, ti ridurrò in pezzi. Un attimo. Cerco di vedere qualcosa. Una chiave per accedere a nuovi pericoli. Voi non potete nulla contro la mia fortuna. Sono in ecstasy. A merda! Dove sono le munizioni? Avanzate discretamente nell'esperimento. La gioia del massacro, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Non sopporto, mi fa battute. Controllo! È chiusa. Vi troverò e vi ammazzerò. Spalla flash! Perché ci avete messo così tanto? Diamo un'occhiata. Acheriamo tutto. Ora non avete più scampo. Eludervi per parte dell'esperimento? Punizioni finite! Al minimo contatto prevedo scintille! Cerco di vedere qualcosa. I vostri occhi e i tuoi uomini non sono forse fatti per essere strappati via? Avanzate discretamente nell'esperimento. Il mio lavoro vale molto di più della vostra miseria vita. Vamonos! Questo era solo l'inizio. Sono stato deludente per il mio studio, se foste morti. I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? La gioia del passaggio, il sollievo, l'infinita estasi di versare. Sangue al trumbo. E strapperanno la carne dalle ossa. Sono in ecstasy! I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? I perdiacey a me? Non è la munizia?! Se è qui, lo troverò مع. orus cuori non cio! Avanzate discretamente nell'esperimento. Spray curativo in uso. Dopo tutti gli spazi per portarti qui, non ho scoperto quasi nulla. C'è tutto questo fanno. Cerco di vedere qualcosa. La gioia del massacro, il sollevo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Totalmente inaspettato. Molto bello. Ora non avete più scappo. Splendido. Cosa stavi per fare? Potresti impegnarti di venire? Avanzate discretamente nell'esperimento. Se cascassi il mondo, ce la farete. Che sciacchezza. Continuare a vivere! Grazie mille! Avanzate discretamente nell'esperimento. Non sopporto ti fanno questo. E' la vostra fine. La gabbia si sta chiudendo. Diamo un occhiato. Stato meglio. Stato meglio. Ma che gioco? Di solito non mi intrometto in questo modo. Ma è troppo divertente! Sì mille davvero! Sono in ecstasy! Buonanemi di legge! Aspetta! La delusione potrebbe influenzare le piacce del virus. Come si fa? Una speranza. Una speranza finita. Ma non per voi. Questo non mi sorprende. Avete lottato fino alla fine. Niente da fare. Che ne dite di un altro esperimento? Ci senti un altro esperimento! Il nostro percetito potevano? Che ne dite! Che ne dite! Che ne dite! Grazie.